Parla tifoso napoletano. Ora vi riportiamo le ultime notizie confermate da Auriemma Raffaele sull'arrivo di Gabri Vega al Napoli. Ma prima vi invito ad iscrivervi qui sul canale, attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Dopo aver brillato in casa con il Celta de Vigo, il talentuoso centrocampista spagnolo è pronto a intraprendere la carriera al Napoli. Troverà subito un punto di riferimento familiare, Stanislav Lobotka. Ex idolo dei tifosi del Celta e dei giovani delle giovanili del club galiziano. Mentre però inizia a concretizzarsi il trasferimento di Vega al Napoli, iniziano a circolare con intensità le voci sul numero di maglia che indosserà in Campania. Secondo Auriemma, il giocatore Lorenzo Russo, convocato per la sfida tra Frosinone e Napoli, avrebbe voluto giocare con il numero 8, ma la sua richiesta è stata respinta, in quanto quel numero era riservato dallo stesso spagnolo Vega. Allora fan, cosa avete da dire sulle speculazioni sul numero di maglia di Gabri Vega? Commenta qui sotto e assicurati di sostenerci lasciando il tuo mi piace. Forza Napoli sempre!